L'addio di Matteo Piacentini apre il mercato invernale del Teramo che potrebbe compensare la partenza del difensore con un innesto davanti. Quel Guido Marilungo che a Pescara ha giocato col contagocce, solo 214 minuti in nove spezzoni, ma che la Ternana riporterebbe a casa prima di girarlo ai Biancorossi in prestito fino alla fine della stagione. L'innesto è di quelli sulla carta, importanti. C'è da battere ancora la concorrenza della Viterbesi, ma il diavolo sempre aver fatto uno scatto decisivo per assicurarsi il 32enne attaccante, che tuttavia oggi si è allenato all'appoggio degli Ulivi col Pescara, seppur a parte, insieme a Galano e Rizzo. Chiaro che il suo arrivo potrebbe certificare la volontà di arrivare a giocare con le due punte, considerando che in organico Guidi a quel punto avrebbe tre centravanti, oltre a Marilungo anche Birlige e Bernardotto. Sarebbe l'anticamera di un cambiamento definitivo nel sistema tattico? Difficile a dirsi, anche perché mancano ancora 11 giorni al ritorno in campo, e gli allenamenti, viste le numerose positività, riprenderanno a pieno regime solo quando il giro di tamponi, il prossimo previsto per domani, certificherà che la rosa a disposizione è completa o quasi. Con Marilungo inoltre si chiuderebbe il mercato davanti, a meno di qualche partenza last minute o comunque non preventivata. La struttura dell'attacco inoltre serve anche per capire il destino di Rosso e Malotti, ad esempio funzionali in un tridente, meno in altri moduli, difficile la loro collocazione in un 4-4-2, men che meno come quinti di un 3-5-2. La partenza di Piacentini a livello numerico dovrebbe essere compensata con un arrivo, anche se l'accordo di qualche settimana fa con Pinto lascia comunque il tecnico con Bellucci Trasciani sobrano e lo stesso Pinto come centrali. Le due coppie, dall'altro lato, potrebbero invece far supporre che la difesa rimarrà a 4 e non a 3, altrimenti ci sarebbe bisogno di qualche ricambio in più. Che poteva essere Frascatore, in uscita anche lui dal Pescara, ma non proprio convinto della destinazione, e allora ci vorrà pazienza. In mediana De Grazia conferisce più ritmo, ma perde in fisicità, visto l'addio imminente di Lombardo che sarà scambiato proprio con De Grazia. Forgione e dal Fiuggi può dare sostanza, Mungo invece offerto a Lavellino non ha ricevuto lo stesso gradimento delle ultime sessioni in Casa Biancoverde. Quando Braglia e il DS di Somma lo avevano corteggiato, ricevendo però sempre come risposta una contropartita economica ritenuta troppo alta. Adesso che per il diavolo Mungo sarebbe anche sacrificabile, gli Irpini sembrano non essere più così interessati. Ma siamo ancora alle battute iniziali. Il termo ha tempo per farsi venire delle idee al netto di quello che accadrà fuori dal campo. Le questioni societarie indirizzeranno in maniera evidente le possibilità di operare e quanta libertà di manovra avrà il DS Federico a livello di spesa. Fortuna che il campionato domenica attende che la situazione Covid si attenui, ma dal 15 in poi, situazione epidemiologica permettendo, sarà una lunga corsa a perdifiato. Fino a fine aprile è tempo per riflettere, non ce ne sarà più.